Samuel Guerra, alla fine di questa partita, Lugano nelle ultime quattro partite ha subito quattro reti. Questo dimostra che la fase difensiva è molto migliorata. Sì, sicuramente. Abbiamo fatto uno step in avanti da quel punto di vista. Abbiamo lavorato tanto sul fatto di gestire bene i dischi, di fare un buon forecheck, di contenere le squadre avversarie nel loro terzo e di giocare, in poche parole, più il tempo nella loro zona offensiva. E questo è un po' il nostro sistema difensivo. Netto Menichelli, nel momento in cui il Lugano veniva da cinque sconfitte consecutive, avrebbe detto che alla ripresa del campionato sicuramente si avrebbe visto un Lugano differente. A mio avviso, con il rientro tuo, il rientro di Leffle, il rientro del portiere titolare di Cara, si è visto un'altra squadra. Sicuramente. Gli infortuni non hanno sicuramente aiutato la squadra. Non era bello guardare la squadra soffrire dalla tribuna. Abbiamo veramente lavorato duro tutti e quattro per ritornare più in forma di prima. E niente, siamo contenti che diamo un buon colpo di mano alla squadra. Sicuramente diamo tante solidità, ma così come appunto Car e Leffle danno tanto in avanti. E sicuramente dà veramente un buon colpo di mano per gestire le partite. Il tuo inizio di stagione non è stato facile inserirsi, forse magari anche il gioco di McSoray è stato difficile da mettere, capirlo anche per te. Ma no, nel senso l'ho capito fin da subito. Era forse appunto, avevo tante cose anche un po' nella mia vita privata che ho avuto una settimana, forse anche di più, quattro settimane un po' intense. E mi hanno fatto fare una preparazione un po' diciamo come non volevo farla io. Però niente di grave, sono cose che imparo, è una lezione di vita. E sono contento che nel giro di un paio di settimane mi sono rimesso sulla retta via. E lo staff mi ha parlato tanto, mi ha dato tanta fiducia, mi ha aiutato. E lavorando duro, come ho sempre fatto tutta la mia carriera, adesso sono ritornato, specialmente dopo l'infortunio, a giocare ai miei livelli. Siamo arrivati in questo momento a tre punti dalla sesta in classifica, dallo Zurigo. Fino a un mese fa sembrava veramente una cosa impensabile. Ora a questo punto si comincia a pensare veramente di entrare anche nel premio 6. Sì, devo essere sincero, io la classifica non la guardo spesso. Però sì, siamo lì, ma lo sapevamo che era un periodo e un periodo no. Nei campionati succede che c'è le fasi no. L'importante è capire un po' come ne esce da queste fasi. E noi come squadra, come gruppo abbiamo veramente reagito bene. Abbiamo iniziato a allenarci bene, a tenere insieme il gruppo. E si è visto dopo la pausa nazionale, si è ritornati più forti di prima. L'ultima cosa, cosa significa per te giocare a Lugano? Sei arrivato da poco tempo, però ti sei già messo un po' nella mentalità della squadra bianconera? Ma sicuramente, c'è una bellissima pressione genuina di voler vincere a tutti i costi. E specialmente nel periodo che abbiamo avuto settembre-ottobre, si è notato quanto questo club vuole far parte delle prime squadre del campionato. E' una cosa che a me piace molto, è un cosiddetto challenge che mi sono preso anche per me stesso nei prossimi tre anni di ritornare a giocare in una squadra molto competitiva. E' quasi un peccato che ci ha la sosta adesso. E' quasi un peccato, ma devo essere sincero ci fa bene. Abbiamo finito bene questo weekend, sono state due battaglie, sono state due partite molto difficili. E adesso tiriamo il fiato per un paio di giorni e ricominciamo a lavorare. Grazie a voi, complimenti. Grande vittorie e ottimo Lugano. Grazie. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie a te. Grazie a te.